I videogiochi compiono 50 anni, era infatti l'agosto del 1971 quando nacque il primo prototipo di videogame pensato per il pubblico. Enrico Bona. Interfaccia semplice, quattro pulsanti per muoversi e sparare ai dischi volanti, un gettone a partita. Computer Space, capostipite degli arcade game, i videogiochi da bar, nasce nell'agosto 1971. Oggi è materiale da collezionisti, all'epoca rese accessibile a tutti un passatempo prima introvabile, fuori dai costosissimi laboratori delle facoltà di ingegneria. Qualche anno dopo, Pong, ancora più semplice del suo predecessore, diventa uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi. Gli anni 80 sono un periodo d'oro per le sale da gioco, Pac-Man, Super Mario, nuove icone della cultura pop. Il decennio successivo aggiunge realismo e sofisticazione. Call of Duty lancia la sfida all'industria cinematografica. Praticamente vinta a partire dagli anni 2000, World of Warcraft consente a migliaia di persone di giocare tra loro contemporaneamente. Internet veloce, piattaforme multiple, realtà virtuale. Nel 2020 il fatturato globale sfiora i 160 miliardi di dollari. Eppure il fascino del vintage non è estinto, anzi attira un pubblico di appassionati. Con macchine poco potenti si facevano cose meravigliose. Chi l'avrebbe detto 50 anni fa guardando quei puntini bianchi? Giuseppe Imbachè riposerà per sempre accanto ai grandi.